Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 code per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla statale 1 Aurelia rallentamenti per lavori tra Livorno Centro e Stagno in direzione Genova. Sulla statale 3 Bis Tiberina rallentamenti per lavori tra Sansepolcro Sud e Sansepolcro Nord in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze fino al 14 settembre scambio di carreggiata tra Poggi Buonzi e Cole Valdelsa Sud in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena chiusi per lavori gli svincoli di Siena Nord e Acqua Calda. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per lavori tra Borgo Ammozzano e Bagni di Lucca. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!